Devo dire, tra l'altro la prefettura ha fatto un ottimo lavoro perché c'era una tendenza a scaricare anche lo spostamento dei migranti quindi nessuno ha potuto parlare di deportazione, sono fatti in maniera molto civile Ma su questo bisogna dire oggi c'era un articolo di Barresi, questo lo diceva Ci siamo quanti che il carriere di lì è stato chiuso e dopo che è stato chiuso? Sì, non ci sono stati fortunatamente incidenti, intotti, polibili Appena siamo arrivati sulla soglia dei 2.000 migranti che erano quelli previsti nel fatto per la sicurezza nel fatto per la sicurezza ancora vigente, era il numero massimo, potevano andare 5 tempi, le cose già migliorarono Sì, mi ricordo Tu sai che tutte le gare da spazio Questa era la mese Sì Tutte le gare da spazio sono state viste E' un'altra roba Sì Ecco, questa era una città Ci sono tantissimi rivalisti che stanno appoggiando questa iniziativa Perché io vorrei evitare di cambiare a canire Anche se il produttoreamento non è un'altra Ma sai, è una campagna di adozione Sì, già fatta, però Questa era la mensa, mangiamo qua dentro Bello Sì, sì, io ho una oltre a mangiare Vedi, i secchi che ci sono lì sono quelli che ne mettiamo per... Ah, per guardare le cani Sì, sì Tutte le mattine Le crocchette E acqua Questo non bisogna anche di... Non è sempre Sì, sì Sì, sì Sì, sì